Icotea, scuola superiore per mediatori linguistici autorizzata dal MIUR, offre la possibilità di seguire singoli insegnamenti attivati presso il corso di studi triennale in scienze della mediazione linguistica. Puoi ottenere 12 crediti formativi universitari frequentando il corso di letteratura inglese 1, settore scientifico disciplinare LLIN 10. La certificazione conseguita ti sarà indispensabile per il recupero dei debiti formativi necessari per partecipare a selezioni pubbliche o private. Vai su www.icotea.it, tipologia corsi singoli, avvia la ricerca, clicca Corso singolo, letteratura inglese 1, LLIN 10, Monteore 300, CFU 12, durata 75 giorni.